Chiusura di settimana in calo per le principali piazze finanziarie europee in scia alla pesante seduta della Grecia, il cui indice principale ha perso il 5%, nel vecchio continente Milano lascia sul terreno il 2,1%, Parigi meno 1,33%, Francoforte meno 1,36%, Bruxelles meno 1,23%, Amsterdam meno 1,22%, Londra meno 0,8% e Madrid meno 0,75%. A incidere sull'andamento dei listini innanzitutto la decisione assunta ieri sera dalla Grecia di accorpare in un'unica rata il rimborso al Fondo Monetario Internazionale da 1,6 miliardi, la cui prima rata da 300 milioni scadeva proprio oggi. Anche le notizie dal fronte ucraino non giovano ai mercati. Il presidente Petro Poroshenko denuncia l'ispiegamento dei soldati russi a est del paese. Dagli Stati Uniti arrivano invece buone notizie del fronte degli occupati, che crescono di 280 mila unità nel settore non agricolo, oltre le attese. Il dato in sé è positivo, ma lascia presa a giro rialzo i tassi di interesse prima del previsto, con la conseguenza che la divisa americana acquista forza. Intanto lo spread tra BTP e Bund tedeschi decennali sale a 140 punti, con un rendimento al 2,26%. Le più penalizzate sono le banche. MPS ha segnato meno 3,31%, UBI meno 3,54%, Mediolanum meno 3,82%. La peggiore del Fuzzimib è Mediaset, che cede il 4,47%. In verde la sola Saipem, che chiude il rialzo dello 0,49%, Piatta Tenaris a più 0,08%. E este è uno da questi! E questo manualizzate è il 2,500. Potete sapere un filtro nel oro 300. N membraneum si diceva basta parlerlo.